Salve a tutti ragazzi, bentornati in questione, io sono Jerem e oggi siamo tornati su Minecraft Ita in compagnia di Saur e dello spirito di Final Gamer Oggi non c'è la webcam perchè sono raffreddato morto, batti se mi sentite parlare con il naso è per questo E niente, allora ragazzi, off camera, ho fatto questa parte qui, l'abbiamo scavato, giusto per portarci avanti col lavoro Adesso dobbiamo fare i muri e finire il tunnel, quindi via! Quindi finito il pavimento, adesso si passa al muro del tunnel che sarà fatto in vetro Ragazzi, il tunnel in sé è finito, adesso dobbiamo levare, prima di piazzare le scale fuori, dobbiamo levare l'acqua dentro il tunnel Quindi ragazzi, questo è il tunnel, ho rimosso l'acqua, ma dobbiamo mettere le scale qui agli angoli Quindi ragazzi, il tunnel è questo, adesso però vorrei provare a fare una roba qua sotto La mia idea era quella di mettere i slab anche sotto Ok, fatto Quindi ragazzi, comincio a piazzare i binari Ragazzi, la linea è attivata Quindi ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio tantissimo noi soliti, lasciate un piaccio per questo piaccio, vi ringrazio Sauer per essere qui In descrizione al canale se è ancora fatto, commentate qui sotto il descrizione del vostro video Se volete condividete andandoci nel prossimo video in cui faremo la stazione dentro l'iceberg Ciao ciao